Nelle ultime settimane un insolito quanto esasperante via vai aveva insospettito alcuni dei residenti della zona al punto che avevano chiamato i carabinieri. I militari, così dopo aver raccolto le segnalazioni, sono entrati in azione ed hanno arrestato un trentenne per detenzione di sostanze stupefacenti. È successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Trasimeno dove i carabinieri hanno perquisito una cantina ed hanno trovato quasi 54 grammi di marijuana nascosta addirittura nella custodia di una macchina fotografica. I militari poi hanno trovato anche un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Arezzo che adesso attiveranno l'azienda sanitaria a causa delle precarie condizioni igieniche del locale perquisito. Il giovane finito in manette ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Arezzo sarà adesso processato con rito direttissimo.